Ciao a tutti amici di Tartaglio TV bene siamo qui oggi io sono Aldi Stein e siamo qui oggi in questo vlog per parlare di una cosa successa in tv in questi giorni non so se avete seguito nelle giornate in particolare di martedì mercoledì e giovedì scorsi striscia la notizia tra le altre cose hanno parlato del caso Insinna praticamente Flavin Insinna l'ex conduttore di affari tuoi è stato accusato hanno fatto vedere se sentire degli audio di altro dove lui diciamo offendeva bestemmiava offendeva le maestranze della radio della trasmissione offendeva in maniera che mescanti concorrenti e l'ha messo sotto accusa in disposta a tutto ciò Flavin Sinna non se ne sa proprio zitto dalla sua residenza di vacanza ha pubblicato un video su Facebook dove in questo video ha appunto ha disposto ed è stato lui a mettere sotto accusa a strisciare la notizia con con delle accusi anche mesanti non vi spoiler troppo perché ho io ho preso questo video da Facebook e ve l'ho voluto pubblicare senza parlare niente di un integrale così vedete di cosa sto parlando se non sapete che sto parlando in una video di esecuzione striscia la notizia potete andare sul sito di Mediaset e la potete trovare tutti i video delle puntate intere di strisciare la notizia e dovete cercare quelle di appunto di martedino e quindi giovedì forse anche di lunedì di più martedì però mi sembra dico altro se volete commentare questa cosa anche voi dite quello che ne pensate se siete a favore di insinno o contro insinno scriverlo qui sotto nei commenti mettete mi piace, tanti mi piace, mi raccomando tanti mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto cliccate la campanella mi raccomando la campanella per rimanere sempre aggiornati e basta condividete, condividete e condividete ah e ricordatevi sempre attivo il fatto dell'iscritto di cambio iscrivete qua sotto iscritto di cambio e io mi iscriverò al vostro canale e vi ringrazio tutti con le creazioni iscritti voglio fare un saluto particolare alla mia amica bebì bebè con un bacio un abbraccio al mio amico ragno 80 che mi segue da Roma ciao ragno torna presto a lavorare e torna presto qui da me ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao gente allora buonasera buonasera eccomi qua sono Flavinzina scusate ma stavo qualche giorno non dico in vacanza insomma ma fuori da tutto come appunto recita il quadruccio alle mie spalle speravo di essere in pace un oasi saluto tutti dico buonasera ma non leggerò i vostri commenti sotto li rileggo dopo quindi andiamoci piano con le parole perché questo paese sta molto attento alle parole che usa visto che tutti pretendono grande civiltà insomma stasera nel mio piccolo ne pretendo un pochino anch'io allora come dice un grandissimo musicista dice amo essere dove non te l'aspetti mai dice dove pensi di non trovarlo sta là ecco dice ve l'aspettavate in diretta? eh non lo so forse sì forse no siamo qua cominciamo in ordine scusate il sorriso ma insomma voglio dire mi sembra tutto così insensato i miei sbagli quello che poi è arrivato dopo che è riuscito ad essere peggio dei miei sbagli scusate un pochino mi viene da ridere divento serio invece per scusarmi nell'ordine con la signora della Val d'Aosta ma preciso mi scuso con la concorrente perché faccio questa precisazione e poi ce lo sapremo ridire nelle sedi adeguate come dicono quelli che parlano bene nelle sedi competenti io quello sfogo che avete sentito dagli amici di Striscia è e vi posso portare sulla mattonella di dovero è in una scala del Teatro delle Vittorie a porte chiuse tra i camerini degli ospiti perché era una serata VIP in diretta quindi anche grande stress ma non mi sto giustificando non mi sto giustificando tra le stanze appunto nostre nostre di chi faceva affari tuoi e i camerini un po' dei concorrenti un po' dei VIP perché quella sera appunto i camerini erano solo per gli ospiti VIP perché era una serata speciale quindi io mi scuso con la concorrente non con la signora si dovrebbero scusare altri con la signora perché quelle parole lei non le ha sentite mai perché come sanno quelli che frequentano affari tuoi che sanno di affari tuoi i concorrenti dopo la puntata vanno tutti via e io mai vi posso dire c'ho tanti difetti ma davanti a una signora non avrei mai detto quello l'ho detto di una concorrente parlando con la mia straordinaria squadra di autori che siccome sono straordinari sono stati straordinari adesso fanno i soliti gnoti che tutte le sere batte striscia sono sempre gli stessi meravigliosi autori più qualche altro fantastico innesto a una squadra di grandissimo talento gli chiedi tutto dice glielo chiedi male a volte sì, lo ammetto glielo ho chiesto male avete mai giocato in una squadra? siete mai stati in uno spogliatoio di una squadra? Antonio Conte secondo voi glielo chiede sempre col si bemolle ai suoi giocatori di essere straordinari io se fossi un allenatore di calcio sarei appunto così come sono in un programma do tutto do tutto chiedo tutto ma perché? perché lo chiedo a persone di straordinario talento quindi torno a scusarmi ancora una volta con la concorrente della Valle d'Aosta poi mi scuso con chi ha visto questi fuori onda il programma vi piaceva? siamo stati programma dell'anno abbiamo vinto in lungo e in largo come dire quello che vedevate in onda su Rai 1 vi piaceva? mi sembra di sì per anni sì e quello forse dovreste giudicare giudicavate giudicavate quello quindi torno ancora una volta a scusarmi con la concorrente della Valle d'Aosta quando poi nelle sedi competenti si parlerà di dove è successa quella cosa di cui c'è solo l'audio non ci sono le immagini perché? perché eravamo in una zona nostra riservata oh piccolo inciso secondo me tutto quello studio visto che si doveva entrare con dei passi c'era la vigilanza c'erano un sacco di cose di documenti di cose da fare di firme da fare per entrare tutto quello studio per anni l'ho pensato casa mia e quando vi dicevo siamo una famiglia lo dico e lo dicevo veramente poi dice ma sono usciti i video ma pure i Borgia erano una famiglia e pure i Irina sono una famiglia in una famiglia buona c'è sta pure qualcuno che sgarra ma è colpa mia eh mannaggia poteva certo poteva venire uno, due, tre di persone e dice Flavio ma quella cosa che ci hai detto quella cosa che mi hai detto è andata così mi dispiace l'ho costretto a pugnalarmi alle spalle eh vabbè questo è un paese che ha bisogno di imparare a perdonare non solo a perdonarsi io sono più bravo a perdonare che a perdonarmi quindi ancora una volta ci scusiamo mi scuso con la concorrente della Valle d'Aosta mi scuso con voi che avete dovuto vedere quelle cose non su Rai 1 su Canale 5 non su Rai 1 su Rai 1 avete visto sempre un bellissimo programma che poi è andato scemando per colpa mia sono invecchiato mi sono stancato e il programma è stato sostituito in maniera straordinaria dei solidi gnoti ritorno col grandissimo mio amico Amadeus chiedo scusa naturalmente appunto agli spettatori e ai telespettatori ah dico una cosa sul canone quando dice paghiamo il canone il canone è una tassa di possesso come il bollo cioè se non la vuoi pagare non devi avere fisicamente l'oggetto a casa il televisore te guardi internet te guardi il computer vuoi la macchina? c'è da pagare il bollo vuoi la barca? c'è da pagare il bollo vuoi la televisione a casa? c'è da pagare il bollo o un'altra piccola premessa quando magari qualcuno di voi un po' più anima così poco leggiadra dici te pagamo col canone no moltissimo quasi tutto lo fa la pubblicità gli introiti pubblicitari senza pubblicità addio eravamo già a casa le scuse ai dirigenti rai a tutti a tutti poi parlerò del mio modo di stare lì ad affari tuoi come un giocatore appunto di pallone come un allenatore di pallone ma le mie scuse mai le avrei voluti travolgere in queste serate così poco edificanti certo ho sbagliato la modalità ma quello che ho fatto per quattro anni quasi tre anni e mezzo circa è stato tutti i giorni ogni minuto ho dormito poco ho mangiato ho fatto l'amore ho corso ho nuotato pensando sempre ad affaritoia come proteggerlo come renderlo sempre più bello insieme alla mia meravigliosa squadra di lavoro vi chiedo scusa ancora beh lo so non sono perfetto nessuno lo è ma questo paese è veramente animato da una grandissima ipocrisia quando arriva l'avviso di garanzia noi siamo super garantisti quando arriva un altro dagli all'untore subito vattene via accidenti l'ho già detto a carta bianca poi parleremo anche di carta bianca se avrete la pazienza di ascoltarvi è un po' lunga la serata se ve ne andate pazienza è sempre un problema di due velocità di due velocità morali non le due velocità dell'Europa l'ho già detto e lo ridico quello che vogliamo per noi come trattamento è quello che riserviamo agli altri chiedo scusa soprattutto a mia madre e a mia sorella perché io non sono un maleducato non ce l'hanno fatta ad educarmi mi hanno menato mio padre era un primario se prendeva le ferie mi menava insieme dice mi ha menato poco mi menava chirurgicamente mi menava insieme a un rianimatore all'anestesista se portava un cardiologo non ce l'hanno fatta sono così come brevarte libertà fino in fondo vi faccio notare subito una cosa l'ultima puntata di affari tuoi ma secondo voi è un caso che mi ero vestito d'astronauta ma cosa ho cercato di dirvi in maniera un po' poetica un po' fumettistica ciao addio volo via sono tornato sono tornato qua stasera e forse se dovrò fare qualche intervista vediamo forse non è neanche necessario mi ci ha riportato chi dall'altra parte vuole distruggermi come persona non è più un attacco ad affari tuoi che c'è da 2003 e parliamo anche di quello è solo un attacco a distruggere me non hanno capito una cosa mi hanno regalato la libertà la libertà come stasera di potervi dire quello che penso la libertà di dirvi ancora una volta come se fossi vestito d'astronauta arrivederci ciao quando sarà sarà qualcuno sarà felice qualcuno no non si può piacere a tutti non ho mai avuto la pretesa ma hanno sempre fatto paura e grande sospetto quelli che vogliono piacere a tutti ah un'altra cosa chiedo scusa ripeto ancora a tutti a tutti soprattutto ripeto alla concorrente della Vadaosta ai dirigenti ma non mi devo giustificare si deve giustificare chi fa la televisione in quella maniera per distruggere una persona e adesso andiamo un po' alle acque chiare da 2003 affari tuoi conduce a Paolo Bonolis viene martellato tutte le sere dagli amici di Striscia in maniera sempre più volgare insulti rubiamo ladri questo impapocchiamo il gioco è truccato un tarocco montaggi fatti ad arte perché abbiamo un'unica colpa di andare alla stessa ora di Striscia la notizia cos'è questa battaglia questa roba che vedete che veramente mi fa una tristezza infinita è solo una roba di qualche punto di share poi però siamo scesi di livello ve l'ho anche scritto sì siamo passati a me solo a me che non c'è più a fare i tuoi in onda che io non sono in onda non c'è su nessun giornale che devo fare un altro programma perché ce l'hanno con me tanto? perché adesso scusate se faccio l'imodesto sono l'unico che in tutti questi anni sono l'unico che in tutti questi anni quando è arrivato il tapiro e hanno cercato di darmelo invece di fare qualche sorrisetto di circostanza perché poi tutti dobbiamo lavorare e poi non si sa mai io ho sempre risposto perché vengo da una famiglia onesta i miei difetti mille ma sono uno onesto pago le tasse tutte sempre pago i miei errori pagherò anche questi ma non mi si può dire e soprattutto non lo si può dire a duemila persone che hanno lavorato dentro Affari Tuoi e ci metto anche i concorrenti e ci metto soprattutto la mia squadra meravigliosa di autori e tutti dal primo cameraman fino alla porta la meravigliosa vigilanza che saluta la quale facevo fare sempre tardi perché ero l'ultima ad andarmene dopo le puntate nonostante le sfuriate tutto il resto ero l'ultima a rimanere in camerino a pensare cosa si poteva fare per rendere il gioco ancora più bello non consento a nessuno di dirmi che imbroglio ci dissero la banda in sinna del noce il direttore ex direttore che saluto che saluto che cercava di proteggermi ho sempre protetto il gioco e le persone mi sono sempre fatto io avanti ho fatto da scudo al gioco e sapete perché c'è questa violenza umana personale contro di me ve lo dico perché il tapiro che poi vi farò vedere vi manderò anche quello di video che qualcuno ha visto ma quello non è diventato virale perché forse evadere le tasse è un po' ho così perché forse qualcuno dice ma se potessi lo farei anch'io io le tasse le pago tutte ho mille difetti ma cerco di vivere con tutti i miei errori con tutti i miei limiti nella legalità nella legalità arriva il fantastico Valerio Staffelli mi porta il tapiro e io ho avuto l'ardire di dire aspetta prima di parlare di affari tuoi parliamo del vostro conduttore che deve risolvere un problema con le tasse andate a cercare sui giornali il signore Ezio Greggio evasore fiscale deve patteggiare sta sui giornali non posso essere querelato sta sui giornali io faccio questa lesa maestà il tapiro non va in onda poi questo video mandatelo in onda se avete questa sete di verità che guardate dal buco della serratura che vi fate dare i filmatini per pugnalarmi alle spalle mandate anche quello liberiamoci come dice il santo la verità prima ci rende infelici poi ci rende liberi io da stasera sono un uomo più felice finalmente libero di dire tutto allora quel tapiro non va in onda poi va in giro su internet non è diventato virale mannaggia speriamo che lo diventi domani o dopo domani quando avrò il tempo di cercarlo di ritrovarlo e di pubblicarlo da lì apriti cielo Flavin Sinna invece di prendersi il tapiro di farsi umiliare di farsi dire che il gioco è truccato di farsi dire che lui e 100-200 persone che lavorano a fare i tuoi imbrogliano o quando sali nel taxi e il tassista dice dottor allora sta a fare i tuoi è truccato ma voi che fareste ma l'imbrogliate ma è tutto vero voi del vostro lavoro della vostra dignità che ne fareste se vi dicessero così tutti i giorni me l'ha chiesto anche mio padre che non c'è più poi se c'è tempo parliamo anche del libro parliamo anche di questa porcata fatta sul libro dove io parlo della morte di mio padre dell'amore per mio padre parliamo anche di quello voi che fareste se vi dicessero imbrogli 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 io faccio da scudo perché so chi sono perché so chi è la squadra che ha lavorato ad affari tuoi alle volte gli ho detto male le cose perfetto cioè perfetto no sbagliatissimo ma glielo ho detto ve lo ripeto perché era una squadra straordinaria e io a quelli straordinari gli chiedo tutto e di più perché siamo la Rai perché siamo Rai 1 perché siamo in prima serata sì senza aver avuto mai l'esclusiva il Rai mi sono sentito Rai uomo Rai da stasera non più ma mi sono sentito uomo Rai sempre dentro i miei sbagli i miei sbagli sono fuori onda per fare cosa per fare andare bene le cose per fare un programma sempre più bello sempre più affascinante perché ogni giorno si logora di più il programma si stanca ho sbagliato i modi ma sì certo ve lo dico ma che volete che io sia contento nel rivedere quella roba ma certo che vorrei essere il primo essere calmo pacato uno pacioso che dice le cose sorridendo non mi riesce pazienza non vi dirò sono così vi dico che sono io nel bene nel male bianco grigio nero non sono dottor jekyll e mr hyde c'è il giallo c'è il blu c'è il rosso ci sono un sacco di colori va bene veniamo per un attimo al libro ritorniamo allora quel tapiro non va in onda però io rispondo quelle cose il signor Ricci eh lì non si può fare bisogna ridere prende il tapiro chi l'ha detto ma chi l'ha detto che io devo prendere il tapiro e farmi dire che sono un imbroglione e presento un gioco taroccato dove sta scritto volete pretendete civiltà voi rispetto ne pretendo anch'io dopo ho sbagliato infatti sto sbagliando ho sbagliato e pagherò e beh ma dovrà pagare pure qualcun altro no sorrisetti non ne faccio se mi vengono a dire che sono un ladro che sono un celtrone e un imbroglione mi dici che sono cane a recitare che sono scarso a presentare e anche quello me lo dovreste dire in maniera civile perché pure là se vogliamo parlare di molti commenti che sono arrivati in questi anni anche sui concorrenti ma anche quelli ve li rimando così mentre tutti gli ipocriti e i bigotti dicono della concorrente vi ripubblico i messaggi i post che arrivavano durante e dopo la partita di persone come voi come me come noi esseri umani che giocavano i concorrenti affari tuoi e ce ne erano ve ne dico una così gioca un ragazzo cubano che salsava le 5 di mattina viveva in Sardegna credo viveva in Sardegna si alzava le 5 andava a lavorare tornava di pomeriggio e andava pure a insegnare credo palla a volo o danza non so gioca lo sapete cosa mi avete scritto ma insomma qualcuno mi ha scritto anche più di uno bravo bravo fa giocare negro l'anno prossimo magari presenta un cubano al posto tuo così vediamo quanto gli vuoi bene i negri ecco qui non vi indignate quei messaggi lì perché non sono diventati virali dice ma cosa scrive ma chi sei ma perché non gli scrivete in un milione di persone a carta bianca ho detto voglio vivere in un paese gentile sì sbagliando io per primo ma io poi so essere gentile ho regalato una barca scusate mia madre mi perdonerà non è elegante parlare di soldi ho regalato una barca la mia pagata da me un valore di più di un miliardo e qualcosa di lire l'ho regalata lo sapete i messaggi che arrivavano ma portateli tutti te a casa i negri quella notizia non è diventata virale sì voglio vivere in un paese gentile che accoglie l'altro giorno prima che cominciassero queste porcate in televisione io ero al carcere di Rebibbia con la comunità di Sant'Egidio per fare una festa con le detenute con le ospiti come le chiamiamo noi del carcere persone che hanno sbagliato c'è scritto sulla costituzione il carcere deve avere scopo rieducativo lo sapete spesso cosa mi dicono ma magari te vengono i ladri a casa tua invece te pensa a quelli ecco questa è la civiltà diffusa in questo paese che poi diventa bigotta ipocrita e dice ah che insinna sì c'è questo e c'è quello c'è il bianco c'è il nero c'è il giallo c'è il fucsio perché non diventa virale anche la roba bella diventa virale solo questa monnezza torniamo all'escalation affari tuoi anni di insulti di bugie di cattiverie ci siamo ammalati vedendo quei servizi pensateci giratelo su di voi cioè non fare agli altri quello che è e io sbaglio e lo so e ho sbagliato tanto e si paga e pagherò non c'è problema ci sono eccomi qua giratelo su di voi sul vostro mestiere sulla vostra professione sulla vostra sensibilità farvi dire tutte le sere quella roba da anni all'autogrill l'occhietto ammiccante di quello dell'autogrill che dice ah va Flavie però sto gioco sto gioco che il gioco è pulito è perfetto allora il tapiro non lo accetto poi c'è anche il video che aspettiamo non è mai andato in onda ma com'è che non è andato in onda sto video dove chiedo a Staffelli se il loro conduttore qual è il problema con le tasse c'è un problema eh sì il problema c'è c'è l'evasione fiscale e quindi così quindi poi si va a carta bianca vado a carta bianca quella serata dove dico lo dico io per primo dico delle cose banali dico delle cose banali di buon senso ma le dico credendoci 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 non lo so qualcuno si infastidisce qualcuno si scoccia boh non lo so andatevelo a rivedere andate a vedere i commenti che girano che girano in questi giorni e tutto sale di livello e allora eccoci qua i i momenti di carta bianca legati poi alle cattiverie ai filmatini rubati dal buco della serratura e ripeto agli audio agli audio presi e quello poi ne parleremo ripeto nelle sedi competenti perché non c'è il video di quella roba c'è l'audio perché stiamo da soli chiusi per le scale in camerino con gli autori sì sì c'è quando saluto Catiaricciarelli quella è la prova del 9 che usciva dal camerino dei VIP dai camerini per gli ospiti VIP va bene allora si sale di livello o meglio si scende si cerca di distruggermi come persona invece mi si regala una grande opportunità quella di essere un uomo libero finalmente ripeto vestito d'astronauta per salutare tutti e ve lo ripeto fino all'ultimo istante ve lo ripeterò poi per strada ci incontreremo non ci parleremo più pazienza sarà quello che sarà ho protetto tutti e tutti perché amo affari tuoi sotto a questa maglietta che è di emergency ce ne sono alcune quelle della Roma quella della comunità di Sant'Egidio quella della RAI quella di affari tuoi sempre perché amo il mio lavoro ho amato quel gioco troppo sì certo non ho dormito non ho mangiato ho protetto tutti e tutto ho protetto affari tuoi solo una cosa e ne vado fiero non mi sono protetto io non ho mai detto spegni quel telefono mi fidavo pensavo di stare in mezzo a gente per bene quasi tutti lo erano qualcuno no ma la pecora fucsia c'è sempre in mezzo al greggio ah un'ultima cosa mentre si preparava questo piattino così ve lo dico così magari potete far diventare virale qualche altra cosa ero a collaborare con Emergency a Marghera in un poliambulatorio ripeto a Marghera mentre mi si preparava questo bel piattino dove Emergency non cura solo le persone di altro colore le persone straniere le persone venute dall'altra parte del mare cura gli italiani perché non so se lo sapete c'è più di un milione di italiani che scesi sotto la soglia della povertà diventano invisibili anche per il servizio sanitario io faccio questo litigo sbaglio mi incazzo grido bestemmio ma poi la mia vita è un'altra e faccio e dico quello che penso e quello che penso poi lo posso dire e soprattutto lo faccio c'è una coerenza non pugnalo nessuno alle spalle posso andare a testa alta anche nei giorni più difficili come questo perché quando sbaglio pago fatto il soldato pago sbaglio mi prendo la punizione e vado via ripeto vestito d'astronauta ma non mi devo vergognare perché io non spio dal buco della sorratura io non pugnalo alle spalle nessuno sono qui da stasera grande libertà potete continuare a insultarmi come volete io quando deciderò riapparirò libero più che mai rivendicando rivendicando di aver fatto di tutto e di più forse troppo per affari tuoi per ricompensare la fiducia della Endemore della Rai ci ho pensato troppo ad affari tuoi sicuramente lo rifaresti lo rifare così cercando di fare meno sbagli ma lo rifare così in maniera totale assoluta ringraziando ancora una volta come chiudevo sempre ad affari tuoi ringraziando tutti sempre tutti quelli che mi hanno aiutato a sembrare più bravo a sembrare più simpatico a sembrare quello che vi è piaciuto poi nella vita sono tante altre cose ma sono un uomo sincero e un uomo per bene e sono qui stasera dove un paese ipocrita si diverte a a scrivere fate diventare virale altro fate diventare virale altro che chiudono gli ospedali che le persone devono aspettare otto mesi per una tac ah un'ultima cosa quando sono andato a carta bianca la gente ha cominciato c'è persone scusate persone hanno cominciato e continuato a scrivere dal tuo pulpito è facile vi rivelo un piccolo segreto dal mio pulpito e non ne ho sarebbe molto più facile cercare di andare in cene con VIP cene con gente famosa cercando altri lavori io che scendo dal pulpito perché non ce l'ho quando non lavoro sono in mezzo alla strada ad aiutare chi non ha sono irregolare non mi troverete mai dove pensate voi mi troverete sempre da un'altra parte forse nel posto sbagliato ma con tutta la mia coerenza e la mia onestà buonanotte oh io vado via vestito d'astronauta ma combatto fino in fondo hanno fatto un errore pensavano di distruggermi ma hanno consegnato una libertà infinita ve l'ho già scritto quella di essere ai vostri occhi ai miei occhi tutto nel bene e nel male buonanotte grazie meno ipocrisia e più gentilezza e soprattutto più correttezza e più onestà lealtà pure nella lotta io sono sempre stato leale quando ho dovuto dire qualcosa l'avete visto l'ho detto davanti a tutti si poteva fare la stessa cosa con me ah un'ultima cosa c'erano sempre tutti alle feste finali che organizzavo per affari tuoi alle feste di Natale alle feste di Pasqua addirittura mi hanno fatto i regali c'è un sacco di regali bellissimi tutto il pubblico un sacco di regali magari che ne so qualche regalo in meno è un po' più di schiettezza grazie buonanotte e buongiorno è già domani e ancora una volta scusa a chi ho senza volerlo offeso chi ha offeso veramente sono gli altri e già si è capito chi ha offeso veramente sono gli altri buonanotte